Salve a tutti i friends, al vostro supercorri, eccoci qua, finalmente torna il nostro appuntamento settimanale, il più atteso, Formula 1 News, dai, settimana questa dove non c'è la Formula 1, quindi alla fin fine possiamo parlare delle news, domani vedremo di fare anche altri video. Qual è il discorso ragazzuoli, molto liquidamente? Ieri ho fatto un video solo perché avevo fatto il secondo video, una gara spettacolare in Ungheria con la Ferrari in Formula 1 2018, chi sta seguendo questa carriera retro gaming sta vedendo che è una battaglia incredibile tra noi ed Hamilton e anche ieri è stata tale. Copyright assurdo sul tratto di gara, normalissimo, dove non ho capito cosa vanno cercando quelli di Formula 1 Ungheria, non c'è nessun copyright infranto, eppure c'è stato bloccato il video. Appena possiamo lo recuperiamo, quindi oggi parliamo delle news ragazzi, fatemi ringraziare tutti quelli che si sono, hanno acquistato in questi due giorni di Prime Day, quindi l'11 e il 12 abbiamo messo una miriade di offerte sul nostro canale delle offerte di Telegram. Super Corris offerte Amazon, a cui vi dico iscrivetevi, ragazzi abbiamo messo una marea di offerte su volanti, televisioni, monitor gaming, telefonini, smartwatch, di tutto e di più abbiamo messo in offerta e avete comprato tantissimi, fatemi ringraziare. Chi si vuole iscrivere, le offerte ottime ci saranno tutti i giorni e fra un mesetto poco più arriverà il Prime Day di Amazon, scusate, il Black Friday, veramente proporremo di tutto e di più a prezzi stracciati. Vi dico anche se volete iscrivetevi al canale Fitness con Radesposito Personal Trainer perché sono molto attivo anche là, l'ho attivato al top, faccio video praticamente 3-4 volte a settimana dove vi do sempre dei bei consigli sull'allenamento con la mia esperienza di giusto giusto 23 anni di palestra, quindi ragazzi se vi fa piacere iscrivetevi pure là, lo trovate comunque nella home di questo canale. Come al solito, prima di partire il video, iscrivetevi anche a questo, al secondo canale SuperChorisTheGamer, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram dell'offerta, appunto sul canale ufficiale SuperChoris84 di Telegram. Per le news in anteprimi sondaggi con cui vi chiedo ogni volta cosa volete vedere sui miei canali, questa mattina vi ho detto, volete vedere Formula 1 News? Sì, eccolo qua. C'è Fruiterab e c'è Twitch dove stasera tornerà una bella live di Formula 1 2022 perché purtroppo ragazzi volevamo fare assetto corsa competizione next gen ma non c'è gente, praticamente sono 5 persone a girare la sera e non è possibile realizzare video e gare live, quindi faremo assetto Formula 1, gare online e ci divertiremo. Allora partiamo subito con le news ragazzi, Ferrari annuncia che lo sviluppo della vettura di quest'anno è finito, effettivamente col fondo portato a Suzuka, Ferrari blocca lo sviluppo, nelle ultime 4 gare la macchina correrà così com'è, quindi si sapeva chiaramente è un qualcosa di dovuto perché comunque Ferrari mondiale ormai le ha persi e bisogna pensare all'anno prossimo dove si spera che Ferrari possa essere comunque competitiva, però non ci mettere la mano sul fuoco, quindi si blocca tutto. Invece Mercedes annuncia che porterà una vettura ancora più alleggerita, quindi che sfiorerà il peso minimo per Austin e per le ultime 4 gare, quindi lo sviluppo Mercedes spara quest'ultima cartuccia, quindi cerca Mercedes di avvicinarsi, come detto anche da uno dei responsabili di Mercedes, la vettura quest'anno su certe piste è stata molto competitiva nelle ultime gare, però abbiamo visto, ha detto anche a Suzuka poi non lo è stato, quindi non si pronuncia sulle ultime 4 gare, dice probabilmente ci saranno dei gran premi dove lotteremo con Ferrari, a Red Bull e altri un po' meno, però Toto Wolf lancia la bomba, lancia l'ennesima bomba e ce ne sono due, una ve la dirò in un video a parte perché merita un discorso un po' più lungo. Toto Wolf si arrabbia e dice la Red Bull non ha fatto una violazione minore, non è questo il termine che si può dare, una violazione di oltre 5 euro di budget cap evasi, quello che dice Toto Wolf, e dice l'impatto è enorme. Wolf dice noi alla Ferrari siamo attenuti al budget cap che doveva essere eseguito, quindi abbiamo speso sui 3 milioni e mezzo in una stagione per portare le componenti in pista della vettura, le componenti nuove. Toto Wolf dice, dice Red Bull no, 5 milioni di euro non si può definire una violazione inferiore, anzi bisognerebbe dare una pena esemplare, dice lui. Con queste vetture, con questo budget cap, dice Wolf, basterebbero 500 mila euro per rivoluzionare e comunque migliorare di netto le prestazioni dell'auto. Dice Wolf, figuriamoci 5 milioni di euro. Cioè giustamente quello che dice Toto, io adesso vi dico, Mercedes lo sappiate quello che pensi, però all'atto pratico quello che dice Toto è che con 5 milioni di euro di evasione, quello che ha fatto Red Bull solo nel 2021, è chiaro che adesso hanno una vettura che va sempre molto più veloce degli altri, perché sono una cifra enorme, non si immaginare se vanno a controllare quest'anno quant'anno è vaso questi. Perciò Toto Wolf lancia questa bomba giustissima, effettivamente. Poteva mancare il solito Helmut Marko che continua a sparare le minchiate, però Helmut Marko dice sostanzialmente una cosa che ci fa tremare le chiappe a tutti quanti, ovvero, secondo lui Red Bull vincerà tante altre gare e tanti altri mondiali, quindi vedete, fa questa previsione. Quando vi ho detto io che secondo me è tutto organizzato e tutto già studiato a tavolino, Red Bull vincerà diversi mondiali, ragazzi. Vincerà 3, 4, 5 mondiali in base a quello che ha pagato. Ecco perché Marco dice siamo convinti di poter vincere tanti altri mondiali, e poi dice alla fin fine, vabbè, solite cose, Verstappen è nettamente superiore a Leclerc, che gli ha fatto un sorpasso incredibile a Suzuka, vabbè, solite minchiate, con quella macchina all'Apoli sono capace. E poi dice, l'obiettivo non è superare le 13 vittorie in un anno di Schumacher e mi sembra Vettel. Vedete? Come con una ruberia, ragazzi, si riscrivono i record della Formula 1. Mercedes ha fatto il record dei mondiali costruttori vinti. Quindi, e sostanzialmente, fateci caso, si riscrive la storia che quest'anno Verstappen di questo passo molto probabilmente vincerà più di 13 gare all'anno, che era un record incredibile che aveva ottenuto Schumacher vincendo 13 gare su 17, però, eh, cioè rendiamoci conto. Su 17 gran premi in un anno, Schumacher, quell'anno, se ci fossero state 24 anni, 24 anni, no, oggi sono dislessico, se ci fossero state le 24, 22, le 23 gare di questo periodo, Schumacher ne avrebbe vinte 20. Quindi, vedete che si vanno a riscrivere record che non sono meritati assolutamente. Però dice anche Helmut Marko, per noi è più importante far arrivare Perez secondo nel mondiale piloti, cosa che non è mai accaduto una doppietta Red Bull nel mondiale piloti, che le 13-14 vittorie di Verstappen. E dico io, grazie, adesso Perez è rimesso ad andare forte. Vedete come cambiano le logiche in un anno? Cioè, Perez che era enormemente in crisi, adesso si è rimesso ad andare fortissimo. A questo punto vi dico io, per me Perez farà secondo nel mondiale piloti, perché questo è l'ennesimo aiuto che viene dato, verrà dato alla Red Bull. Quindi, senza mazzi, senza cazzi, se andiamo a vedere qua. Parla Giancarlo Minardi e dice, praticamente, ex team principal, proprietario del team Minardi, che adesso è diventato Alfa Tauri da parecchi anni, e dice Binotto, che ha smosso una critica più o meno velata alle Clerc, dicendo che il consumo gomme era anche imputabile alla guida del pilota. Minardi dice no, Binotto ha detto una grandissima cavolata, perché Ferrari non riesce più a gestire le gomme, come accadeva in inizio stagione dove era la migliore. Ferrari era il team che gestiva meglio le gomme. Voi pensate un po' per tutta la prima parte di stagione, pensate un po' come si è rivoluzionato questo campione. Adesso Ferrari non gestisce minimamente bene le gomme. Lui dice, la colpa anche degli errori di Leclerc sono di una vettura che è difficile da guidare, quindi è colpa anche del team e delle strategie spesso, perché se le gomme non tengono è anche il team che non riesce a mettere in pista una macchina adeguata. E sostanzialmente Minardi dice quello che ho detto sempre, Sainz merita un voto 4 perché è l'ennesimo errore che fa al primo giro di una gara e dovrebbe capire Sainz che le gare non si vincono al primo giro. Quando vi dico io che Sainz è molto criticabile, perché quest'anno tre gare Sainz l'ha persa al primo giro. Australia, dove si è girato assolutamente da solo per fare una rimonta con gomme bianche che gli permettevano di fare una gara tranquillamente da secondo posto. a Imola, dove praticamente ha forzato un sorpasso all'esterno sul Ricciardo sulla pista bagnata quando lo stesso Leclerc si era messo tranquillo dietro la Red Bull, invece praticamente lui che ha fatto, si è buttato dentro, si sono toccati lui al Ricciardo e si è ritirato. E qua stessa cosa, cioè Sainz è stato l'unico pollo che gli si è girato all'auto al primo giro, tanti avevano le gomme intermedie ritirandosi. Quindi anche Minardi dice questo, se lo dice Giancarlo Minardi, che è uno che ha un'esperienza in Formula 1 di 70 anni, penso che sia qualcosa di giusto da dire. Ralf Schumacher critica l'AS, lo zio di Mick Schumacher, fratello di Michael Schumacher, plurivincitore di gare nel mondiale di Formula 1, dice che l'AS sta privilegiando Magnussen a discapito di Mick. Effettivamente, ragazzi, ve l'ho detto. Ora, chiaramente Mick non è stato mai un pilota al top quest'anno, però tante volte gli sono state date strategie non proprio eccezionali. La stessa gara di Suzuka ci fa vedere come un Mick Schumacher viene lasciato in pista con gomme da bagnato pesante quando tutti erano passati all'intermedia ed era palesemente più lento, sostanzialmente rovinandogli la gara quando lui era molto avanti. Quindi, effettivamente, vedete ragazzi che, sì, il pilota non è il top, il pilota ha commesso tanti errori, però anche il team non l'ha mai tutelato. Concludiamo dicendo che il team principal di Alpine, che mi sono dimenticato il nome, comunque vabbè, andatelo a vedere su internet, dichiara che parla dei piloti dell'anno prossimo, parla della scelta di Gasly, ha detto che la nostra prima scelta è sempre stato Gasly, dopo, chiaramente, che Piastri sia andato in McLaren, ha detto che l'unico dubbio era se riuscivamo a liberarlo dal contratto in Alfa Tauri che Gasly ha firmato inizio anno per il 2023. Siamo riusciti. Dice, avevamo anche paventato l'ipotesi di un Daniel Ricciardo come, appunto, secondo pilota, di un ritorno di Ricciardo, però dopo abbiamo optato per Gasly. E dice, sì, il test che abbiamo fatto con De Vries, Giovinazzi, Hulkenberg, quest'estate è stato un buon test, tutti si sono comportati bene, ma alla fin fine non ci hanno convinto fino in fondo. Quando vi dico io, ragazzi, che De Vries, Giovinazzi, sono piloti di terza fascia, ma anche di seconda. Eh, ma De Vries con la Wii... Ragazzi, De Vries è un buonissimo pilota, ma non è un fenomeno, non andrebbe in Formula 1 a 26 anni, se no. Stiamo parlando di un buonissimo pilota, non un fenomeno, non un campione. Stessa cosa Giovinazzi. Giovinazzi è un pilota tra il mediocre e il decente. E' un pilota che, se gli dà la macchina, come l'assi quest'anno, ti avrebbe preso qualche punto con l'Alfa Romeo Wild, ma niente di più. Se no, non sarebbero stati scartati dal PIN. Al PIN appunto che dichiara che Gasly è stata nettamente la prima scelta. Con Ricciardo, che adesso si vocifera, possa diventare terzo pilota Mercedes. Quindi entrare nell'orbita Mercedes. Vedremo, perché Ricciardo, terzo pilota in Mercedes, potrebbe essere anche un eventuale sostituto, qualora Hamilton decida di ritirarsi, eh, nei prossimi anni. Quindi, molti hanno criticato questa scelta dicendo che non è adeguata. Lo stesso mi sembra Coulthard ha criticato la scelta di un Ricciardo ipotetico in Mercedes. Però, ragazzi, si terrebbe in Formula 1 un Ricciardo come lo stesso Mick Schumacher, che probabilmente verrà dirottato come terzo pilota Ferrari. Sarebbe il loro modo per non uscire completamente dal circus e, in eventualità futura, tornare dentro. Ci vediamo dopo con un altro video approfondimenti su Toto Wolf, ragazzi. Grazie della visione. Ciao aglio. Grazie.